Il Cosenza torna al Marulla e la chance riservate ai lupi dal calendario e di quelle da non perdere. Sabato sera alle 20.30 nello Stadio Silano si presenterà il Melfi, formazione in caduta libera. La cura Ogolotti ha solo limitato i danni nelle ultime settimane dopo la gestione del duo Palumbo del Vecchio. I federiciani non vincono da ben otto turni, ma è un successo in trasferta dove vengono a galla tutte le difficoltà di gioco. E' una squadra che punta ad addormentare la partita, se ci riesce. Sono guai per gli avversari. Trappola in cui non dovrà cadere il Cosenza chiamato dai suoi tifosi al quinto successo casalingo consecutivo. Imbattibili ed imbattuti al Marulla, i ragazzi di Giorgio Rosselli contro il Melfi avranno la possibilità per una serie di incastri di centrare la seconda piazza in classifica. Ma prima c'è da battere il Melfi. Sulla carta solo un semplice dettaglio. In campo tutt'altra cosa per conferma chiedere al Matera che domenica scorsa ha dovuto sudare le classiche sette camicie per strappare via un punto dal rettangolo di gioco lucano.